In chiesta rifiuti, il senatore del PDL Paolo Tancredi mostra grande tranquillità. Non ho nulla da nascondere, farò pubblicare tutte le intercettazioni telefoniche. Dall'azzeramento del debito della sanità alla possibilità di effettuare investimenti mirati. Questa è la strategia del governatore della regione Gianni Chiodi. L'abolizione della cosiddetta tassa sulle disgrazie potrebbe consentire alla regione di sbloccare in tempi rapidi i fondi necessari per imborsare i danni dell'alluvione 2011. Entro i primi mesi del 2013 dovrebbe essere completato il secondo tratto dell'8-0, lo ha annunciato il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Giulia Nova domani in campo al Fadini per ospitare il Milazzo, fuori Picone per squalifica, torna Daniello. Gara a porte chiuse. Domani è il giorno di Teramo San Benedettese. Mister Cappellacci col dubbio a Camone Borrelli. Out Valentina Iazzetta. Mister Palladini senza Mengo. Weekend senza impegni per la banca Tercas Teramo. Prossimi sette giorni decisivi per sapere se si riuscirà a finire la stagione. Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte, prima edizione. Iniziamo subito con le vicende che stanno interessando il senatore Paolo Tancredi, l'inchiesta sui rifiuti. Infatti il senatore del PDL Tancredi mostra grande tranquillità, non ho nulla da nascondere. Farò pubblicare tutte le intercettazioni telefoniche. Ascoltiamolo. Senatore, l'inchiesta sui rifiuti prosegue. In questo momento ovviamente sono anche il mondo politico e sotto osservazione. Qual è il suo punto di vista? Ma niente di nuovo mi sembra. Cioè voglio dire, ci sono le indagini, ci stanno procedendo le udienze del preliminari a Pescara. Ma io tra l'altro sono stato tolto dalla competenza di Pescara, sono a Teramo, dove credo i magistrati stanno approfondendo le carte. Io non ho nessun problema sull'inchiesta, anzi ho sempre detto, spero che indaghino con accuratezza perché si vedrà che le nostre responsabilità non ci sono. Anche perché, insomma, poi tra l'altro i giornali, capisco, i giornali hanno bisogno di vendere sulla pelle nostra, lo fanno tranquillamente. Sono scritte delle cose. Qui non si parlava assolutamente di termovalorizzatori. Noi vogliamo il termovalorizzatore, lo abbiamo scritto con trasparenza sul programma elettorale, non è che lo abbiamo trattato in una botteghina oscura con qualcuno. L'abbiamo scritto sul programma elettorale. Io lo dico da 15 anni, che ci servono gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, li ho visitati in tutta Europa. Dopodiché, con Dizio non avevo mai parlato di gare, non ho mai parlato di gare. Nelle intercettazioni telefoniche, voglio dire questo all'opinione pubblica, chiaramente la strategia del mio avvocato sarà quella di cercare di non dare l'autorizzazione per le autorizzazioni, ma io farò pubblicare tutte le intercettazioni telefoniche, perché io non ho niente da nascondere dalle intercettazioni telefoniche dei miei colloqui. Con Venturone e con Dizio non ho assolutamente nulla da nascondere, sono cose assolutamente trasparenti, sono state pubblicate sui giornali in questi giorni e io sfido a trovare qualcosa che non va in quelle intercettazioni telefoniche. E adesso andiamo a Nereto, dopo la vicenda dello stupro che ha interessato una minorenne, interviene il sindaco Stefano Minora. In riferimento ai fatti accaduti in settimana a Nereto, il sindaco e l'intera amministrazione comunale in questo triste momento sono caldamente vicini alla famiglia della vittima del vile gesto, a far sapere in una nota il primo cittadino, che percependo un particolare clima di preoccupazione auspica che questo stesso clima non degeneri. E solidarietà e giustizia per la vittima dello stupro viene espresso anche dal circolo Ampi di Rosseto, il circolo della resistenza che dice solidarietà e giustizia ma mai cadere nel fanatismo xenofobo. Ancora cronaca, era gli arresti domiciliari ma riceveva nella sua abitazione i tossici e la compravendita dello stupefacente avveniva in casa davanti agli occhi dei figli minorenni. Ieri sera nel corso di una mirata operazione da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Albadriatica è stata arrestata una donna di Villa Rosa di Martinsicuro, si tratta di Maria Bevilacqua di 33 anni. I carabinieri dopo aver seguito alcuni tossici che avevano fatto visita alla donna, già detenuta agli arresti domiciliari sempre per lo stesso reato, hanno fatto irruzione in casa. La donna ha cercato di eludere il controllo e l'ha nascosto in un involucro circa 120 grammi di eroina, poi sistemati sotto i cuscini del divano dove in quel momento c'era uno dei figli minori. La repentina manovra però non è sfuggita ai militari che hanno recuperato lo stupefacente in parte già tagliato ed hanno arrestato la zingara. Dall'azzeramento del debito della sanità alla possibilità di effettuare investimenti mirati e questa è la strategia del governatore della regione Gianni Chiodi, Servizi. Il governatore della regione Abruzzo in questi anni è stata impegnata soprattutto per quanto riguarda di contenere il deficit della sanità. Adesso, come ha annunciato, bisogna iniziare a investire sulle risorse poi risparmiate. Sì, noi siamo stati concentrati sul salvare l'Abruzzo. L'Abruzzo è stata la prima regione italiana che è andata come la Grecia perché non era in grado di pagare nel 2007 i fornitori. Le altre regioni italiane sono intervenute, gli hanno prestato di soldi, hanno dato soldi delle regioni, l'hanno data all'Abruzzo affinché fosse in grado di pagare i propri fornitori e così come il Fondo Monetario Internazionale sta facendo con la Grecia, gli hanno detto che adesso devi cominciare a governare bene, cioè a non essere cicala, a non essere dispensatore di sprechi e privilegi a destra e a manca per ottenere il consenso immediato tipico di una politica miope. Quindi detto questo, noi ci siamo concentrati nel fare questo percorso. Abbiamo ridato l'Abruzzo ad essere in equilibrio sanitario. Non è vero che abbia subito tagli in termini monetari perché, come ho dimostrato in più in occasione, spende più di quanto si spendeva nel 2008, però ovviamente riducendo sprechi e privilegi ha concentrato la capacità di conto economico, di risultato di conto economico. Abbiamo fatto tra l'altro investimenti e cominceremo fortemente con gli investimenti appunto perché siamo in equilibrio e questo lo possiamo fare. Creeremo una sanità che è di qualità, anche perché sta migliorando anche secondo i livelli essenziali di assistenza, la Monitata dell'Agenzia per la Salute, l'Agenzia nazionale, stanno migliorando anche i livelli essenziali di assistenza. Certo, ancora non sono quelli che hanno altre regioni italiane dalle marche in su, però mediamente la nostra sanità è buona. Anche alcuni indicatori economici, resi noti di recente da giornali economici, danno comunque uno stato di salute diverso per l'Abruzzo. L'Abruzzo è una situazione in Italia, quindi in Italia e in Europa, in Europa e nel mondo occidentale c'è una crisi economica fortissima. Però possiamo verificare il comportamento delle regioni, chi si è difeso meglio e chi si è difeso peggio. Secondo lo Svimez, noi siamo nel 2010, siamo stati la seconda regione italiana perché esce il prodotto interno lordo. Il 2011 i dati sull'occupazione hanno retto meglio che altrove. L'ultima indagine, il Sole 24 Ore, ha detto che la regione Abruzzo, facendo un'analisi su un terriro un po' più lungo, è la nona regione italiana per dinamismo in termini di capacità di sviluppo economico. Il recente pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della cosiddetta tassa delle disgrazie potrebbe consentire alla regione di sbloccare i fondi necessari per rimborsare i danni dell'alluvione dello scorso marzo 2011. Vediamo. Tra poche settimane, sarà un anno dall'alluvione del 2011, c'è il problema legato al rimborso, al ristoro. Come stanno le cose? Sì, adesso le cose sono in continua evoluzione, lo sono state per un anno, però oggi abbiamo questa notizia importante da parte della Corte Costituzionale che con la sentenza di questa settimana ha cassato la cosiddetta tassa sulle disgrazie. Per cui adesso abbiamo ancora una strada in più rispetto a quelle che immaginavamo prima perché stiamo continuando a lavorare sullo sblocco dei residui fonti FAS, su quelli che erano stati i disimpegni automatici sui fonti FAS sono utilizzati nel 2000-2006. Immaginiamo su questi di continuare il percorso che abbiamo dovuto riprendere da capo con il nuovo governo perché evidentemente cambiando gli interlocutori il discorso è ricominciato da capo. Credo che stiamo già qui abbastanza avanti ma a questo punto abbiamo la concreta speranza di poter andare direttamente a chiedere per quanto riguarda il Fondo Nazionale di Protezione Civile atteso che quella norma che impediva la disponibilità se non dopo l'aumento delle tasse e delle accise è stata appunto eliminata dalla Corte Costituzionale. Voglio ricordare che credo sia stato particolarmente opportuno il passaggio sul quale abbiamo fortemente insistito cioè di non aumentare le accise e di non aumentare le addizionali regionali perché al di là di quella che è poi questa pronuncia della Corte Costituzionale le regioni che l'hanno fatta e mi riferisco a Marche e a Piemonte non hanno ricevuto un euro quindi hanno aumentato le tasse ma non hanno avuto i fondi. Credo quindi che la scelta alla quale è stata improntata poi la politica del governo Chiodi è stata giusta anche in questo campo e i risultati credo che insomma si stiano vedendo. E adesso a Teramo. Sulla vicenda del secondo tratto dell'8-0 l'ANAS ha deciso di attendere il pronunciamento del TAR. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha chiesto di poter anticipare i tempi della sentenza. Volontà questa che il sindaco ha manifestato nel corso del convegno che si è svolto questa mattina a Teramo dal titolo Operazione Traffico Zero organizzata dall'Associazione Labruzzo al Centro. Ma ascoltiamo il primo cittadino terramano. Maurizio Brucchi. Sindaco relativamente alla viabilità cittadina dal punto di vista strategico la possibilità di far ripartire i lavori dell'8-0 rappresentano un aspetto importante. Sicuramente l'8-0 in quest'operazione Traffico Zero ha un ruolo importante. Lo ha avuto nell'apertura del primo tratto lo avrà nell'apertura del secondo tratto. Il secondo tratto purtroppo che insomma perderà qualche mese perché l'ANAS ha deciso di aspettare il merito per quanto riguarda l'affidamento all'impresa e il merito del Tar. Io però da parte mia mi sono dato da fare e ho scritto una lettera al Presidente del Tar chiedendo di anticipare il merito. Speriamo che il Presidente voglia accogliere questa mia preghiera perché è importante che inizino al più presto i lavori perché il primo lotto ha risolto l'80% dei problemi però il secondo lotto è strategico per tutta quella parte di traffico che sta a monte della città e quindi della parte sia delle città che si trovano verso la montagna ma soprattutto anche dei quartieri che si trovano da quella parte. Comunque anche se dovesse essere maggio io sono fiducioso che i lavori inizieranno diciamo prima dell'inizio dell'estate in modo che poi in tempi più o meno rapidi perché io sono stato a Roma anche dal Presidente Ciucci ne abbiamo parlato l'input dell'ANAS è quella di finire i lavori in 6-8 mesi per cui alla fine insomma 2012, primi mesi del 2013 avremo anche il secondo tratto dell'8-0. L'amministrazione comunale di Teramo informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al rimborso dei libri di testo per le famiglie degli alunni residenti nel comune di Teramo e frequentanti le scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2011-2012 le relative istanze dovranno essere compilate su appositi moduli disponibili presso le segreterie delle istituzioni scolastiche dovranno essere presentate alla scuola dovranno essere presentati alla scuola di appartenenza entro e non oltre il termine perentorio del 10 marzo prossimo A Rossetto l'amministrazione comunale invita tutti i bambini al Gran Carnevale martedì 21 febbraio dalle 14.30 alle 19 con ingresso libero presso il palasporto comunale Remo Maggetti la direzione artistica è affidata all'associazione culturale Seven Heavens e al pomeriggio di festa interverranno ziz giochi e animatrici Adesso invece prima dell'ampia pagina sportiva ovviamente del meteo andiamo a vedere quelli che sono stati i titoli proposti questa mattina dai quotidiani locali presenti in edicola vediamo Rassegna stampa locale sabato 18 febbraio 2012 il messaggero Val Vibrata minore stuprata spunta testimone il marocchino intanto si difende c'ero ma non ho fatto nulla morte De Luca la Domenicana incriminata in caso di condanna nessuno sconto di pena Giulia Nova piano di lottizzazione di via Cupa arriva all'ok ma per progresso Giuliese è un progetto assurdo chiediamo l'intervento della Corte dei Conti il tempo Val Vibrata non c'entro non conosco la ragazza ma gli investigatori non gli credono e continuano a cercare i complici interrogato dal GIP il marocchino accusato di aver violentato la sedicenne aggressione di Pineto Luca Michelucci sarà ricoverato in ospedale psichiatrico provincia il solare termico l'energia del futuro illustrati i risultati del progetto Wide Sea finanziato con fondi comunitari omicidio di Torricella ucciso con 21 coltellate Dominicana alla sbarra respinta alla richiesta della difesa di rito abbreviato la città alle ore contate il pirata del SUV che ha coltellato dopo l'incidente la questura di Teramo l'avrebbe già identificato risalendo al modello dell'auto Teramo PDL a congresso il 4 marzo saranno due le emozioni nessun accordo precongressuale tra Tancrediani e Gattiani si va inesorabilmente verso la conta Teramo dopo l'ex caserma dei vigili la provincia vende altri beni Giulia Nova mancano 20 assistenti sanitari sono 28 ma dovrebbero essercene 50 Roseto neve abbatte cavo elettrico quartiere isolato problemi a Roseto per i blocchi caduti dai palazzi il centro Di Pietro fa il nome di Tancredi al PM l'arrestato è lui il nostro commercialista il socio di Chiodi sentito come teste della finanza l'udienza Team il PM da di zio favore a Tancredi e di Stefano processo avventuroni soldi al PDL e assunzioni nelle intercettazioni trasmesse al Senato Marti in sicuro verso il voto la sinistra decide sulle primarie la scelta finale dipende dall'Udc Pineto ospedale psichiatrico per il cannibale il GIP ha deciso processo sospeso il ragazzo riceve in carcere la visita del vescovo Seccia Finalmente dopo un lungo periodo di mal tempo è davvero arrivato il sole piuttosto caldo ma vediamo se le previsioni del tempo ci dicono che proseguirà questa bella ondata di bel tempo meteoteramo.it previsioni per oggi in provincia di Teramo nel pomeriggio stratificazioni in aumento ovunque addensamenti più consistenti lungo la dorsale appenninica dove tuttavia non sono attesi fenomeni significativi tra sera e notte schiarite temperature in aumento massime comprese tra 9 e 12 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 10 e 13 gradi sulle coste venti deboli occidentali Adriatico Calmo Iniziamo dunque con l'ampia pagina sportiva e partiamo dalla seconda divisione il Giulianova che domani affronta in casa il Milazzo gara che si giocherà a porte chiuse accesso garantito solo ai giornalisti e agli osservatori degli arbitri nel Giulianova mancherà lo squalificato Picone rientra Daniello facciamo il punto con questo servizio il Fadini domani non aprirà i cancelli la sfida Giulianova-Milazzo scontro diretto tra due formazioni in lotta per evitare i play-out si giocherà senza pubblico per decisione della Questura che non ha concesso l'autorizzazione per l'ingresso dei tifosi nonostante il sindaco Francesco Mastromauro il primo cittadino giuliese era pronto ad assumersi le responsabilità dopo che la commissione di vigilanza sugli spettacoli aveva riscontrato carenze all'impianto antincendio Prefettura e Questura alla fine hanno deciso di non concedere la deroga domani al Fadini potranno accedere solo gli accreditati ovvero i giornalisti e gli osservatori degli arbitri anche se in un primo momento sembrava che il divieto potesse riguardare queste categorie la Lega Pro ha però imposto il diritto di cronaca oltre a garantire per gli osservatori il Giulianova potrà giocare solo quattro delle prossime otto sfide che restano da disputare in casa da qui alla fine del campionato in caso la società non trovasse un campo alternativo scatterebbe la retrocessione d'ufficio se l'incontro con il Milazzo si gioca a porte chiuse le prossime partite a cominciare dalle sfide contro Paganese 4 marzo e l'infrasettimanale con il Melfi 7 marzo si giocheranno con ogni probabilità in campo neutro evitando così il rischio di una retrocessione il sodalizio di via Migliori sembra orientato a chiedere la disponibilità dello stadio di via Fonte dell'Olmo a Roseto mentre sembra scartata al momento l'ipotesi del Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto intanto dopo la sconfitta di Perugia di mercoledì scorso mister De Patre ha lavorato in questi tre giorni per ritrovare la serenità della squadra i giocatori e lo staff tecnico hanno percepito gli stipendi e questa è la notizia positiva per quanto riguarda invece la sfida di domani il trainer giallorosso dovrà rinunciare a Picone appiedato dal giudice sportivo ritrova però il capitano Daniello che dovrebbe garantire quella fantasia che è venuta a mancare soprattutto dopo la partenza di D'Alessandro in attacco ritorna il capocannoniere di casa Francesco Morga ma domani è il giorno di Teramo San Benedettese ascoltiamo a tal proposito il presidente del Teramo Luciano Campitelli Presidente che bello vivere la vigilia di una partita come questa ma se tutte le settimane fossero come questa io ci metterei la firma perché è stata una settimana sia per noi che per la città e per tutti è una festa in evento adesso speriamo che noi domani possiamo fare innanzitutto una bella partita una partita che spero che tutti i tifosi sia i nostri che i loro siano qui solo per fare il tipo perché anche per una questione di ordine pubblico noi ci teniamo tanto che questo sia una cosa molto molto professionale e quindi corretto e poi speriamo di poter fare questa partita nostra perché noi ci teniamo tantissimo la squadra si sta allenando bene anche sotto queste avversità della neve che veramente nessuno poteva pensare che qui dopo 15 giorni spalare neve dalla mattina alla sera ancora vediamo tutti questi mocchi quindi ce l'abbiamo fatto veramente tanto io ci aspettavo una risposta da parte dei tifosi e possiamo dire che da quelle che sono le indiscrezioni della vendita dei biglietti della prevendita dei biglietti questa risposta c'è stata ma io credo che i tifosi ne verranno tantissimi penso che a prescindere fino adesso che di biglietti ne sono venduti ne sono stati venduti parecchi o meno io confido ancora che il grosso avverrà tra questa sera e domattina perché la città si sente c'è un fermento enorme dovunque dovunque passi chiunque chiedono quindi poi il nostro marketing ha fatto un bel lavoro poi voglio ringraziare tutte le televisioni anche locali che hanno ci hanno messo del loro quindi io spero in domani perché questa partita forse è la partita più che sento da quando faccio il presidente del Teramo adesso non resta che vincerla speriamo io lo sogno l'ho sognato lo spero lo spero per tutti noi perché per noi è una partita troppo importante e anche perché meritiamo questo primo posto e speriamo di poterci stare a più punti domani sera ovviamente è una gara molto importante anche per quanto riguarda il profilo dell'ordine pubblico da San Benedetto del Tronto arriveranno 1438 ultra questi sono comunque i biglietti ufficiali venduti ai sostenitori della Samb ma sulla sfida quindi sull'ordine pubblico su quello che si sta organizzando noi ascoltiamo adesso il dirigente il primo dirigente della Polizia di Stato Alfredo D'Agostino della Questura di Teramo Dottor D'Agostino doppio lavoro per la Questura per una partita come questa perché ovviamente è una partita giudicata ad alto rischio e allora ci sono delle disposizioni particolari partiamo dalla vendita dei biglietti che continuerà ancora per oggi e domani mattina solo per il settore Tribuna con quali obblighi però? Esattamente ricordiamo che la vendita dei biglietti per i settori distinti ospiti riservati ai San Benedettesi è curva dei Teramani e si terminerà questa sera alle ore 19 sarà data la possibilità entro domani appunto domenica alle 12.30 per l'acquisto di biglietti per il settore Tribuna esclusivamente a persone residenti e che quindi esibiscano un documento a comprova di ciò residenti nella provincia di Teramo voi avete monitorato anche avete seguito la vendita di questi biglietti di Tribuna? Sì assolutamente c'è un monitoraggio costante avevamo avuto delle segnalazioni che ci indicavano la possibile vendita di biglietti a soggetti non residenti nella provincia di Teramo o acquistati fittiziamente da soggetti per esempio residenti a Martinsicuro per tifosi della San Benedettese non ci sono riscontri oggettivi al momento e per quello che riguarda invece i percorsi per arrivare allo stadio quali dovranno seguire i tifosi del Teramo e quali quelli della San Benedettese? I tifosi del Teramo potranno arrivare allo stadio dalla strada statale 80 e lo rotatorio di piano daccio scendere verso il centro commerciale dove potranno essere parcheggiati le vetture appunto di proprietà in un percorso che abbiamo già preventivato e che domani sarà ben definito e indicato da personale a ciò predestinato e invece i tifosi della Samb? Arriveranno dalla Teramo Mare uscita a San Nicolò parcheggio riservato e tifosi ospiti settore curva e una porzione del parcheggio antistante e distinti destinato a coloro che appunto andranno in quel settore Parlando prettamente della squadra Teramana che scenderà domani in campo ascoltiamo il parere di mister Cappellacci Cappellacci quanta soddisfazione c'è nel giocare dalla panchina in campo una partita come quella di domani? Sì in effetti sono appuntamenti che per chi fa questo lavoro sono belli da vivere è chiaro che poi il risultato condiziona un pochino la bellezza di queste partite e quindi niente diciamo è una partita che immagino che chi giocherà titolare avrà delle grandi motivazioni speriamo di fare bene Borrelli Arcamone? Borrelli Arcamone adesso vediamo oggi che succede vediamo insomma non è che siano bene però potrebbero essere della partita comunque la cosa più importante è che venga cancellato il ricordo della partita di andata perché vorrebbe magari indurre a pensare che questa sia una partita come quella invece non è così no perché poi le partite hanno una storia particolare ognuna anche quella che hai fatto la settimana prima figurarsi una partita che è stata disputata quattro mesi fa tra l'altro incontriamo una squadra che era forte anche prima ma adesso è probabilmente la squadra più forte che c'è in questo momento la squadra più in forma ha vinto 10 partite di fila quindi insomma non c'è nessun riferimento da fare rispetto all'altra partita magari ecco la fortuna che abbiamo avuto in quella partita nel sfruttare gli episodi che sono stati determinanti per l'esito del risultato speriamo che si ripetano anche stavolta giocare in casa in questa occasione è un vantaggio? beh giocare in casa credo sia sempre un vantaggio soprattutto tu quando puoi contare sul pubblico amico che comunque ti aiuta no? però poi le partite si giocano sempre sul rettangolo tra 11 giocatori e quindi insomma possono essere importanti tifosi come noi speriamo che siano e che siano anche numerosi però la partita si deciderà sempre poi tra i giocatori formazione? formazione te la devo dire magari non lo so dai formazione c'è qualche soluzione da poter adottare questa volta magari non per fare pretattica ma non la diciamo perché non la sanno neanche i giocatori quindi arriveremo a domani e decideremo con calma restiamo in serie D dopo il rinvio della gara tra Vispesaro e San Nicolò solo la Sant'Egidiese e oltre ovviamente al Teramo scenderà in campo domani tra le squadre teramani impegnate in serie D la squadra di Fontana affronterà i reali Sernia a rivelazione del campionato i giallorossi hanno l'obbligo di provare a fare i punti per uscire dalla zona play out per poter giocare la gara le due squadre dovranno migrare a Castelvolturno in provincia di Caserta Un'ultima notizia riguarda il basket fine settimana di riposo per la banca Tercas Teramo che tornerà a lavorare martedì per preparare la trasferta in programma poi domenica prossima a Bologna i prossimi sette giorni saranno comunque decisivi per sapere se la Teramo Basket riuscirà a finire la stagione perché devono ancora diventare disponibili i 540 mila euro nelle mani del presidente Lino Pellecchie deve arrivare una nuova sponsorizzazione appunto come dicevamo per portare a termine questa stagione come dicevamo era anche l'ultima notizia di questa prima edizione del nostro notiziario ricordiamo l'appuntamento con l'informazione alle 17.30 all'edizione Flash alle 19.15 la seconda edizione di Primo Piano Serena Grazie per l'attenzione buon pomeriggio e buon fine settimana Arrivederci per l'attenzione Grazie a tutti.